Sono le donne le protagoniste della mostra Altereva, Natura, Potere e Corpo, nello spazio espositivo della Strozzina. Le opere, partendo da un punto di vista femminile, offrono una riflessione sul futuro basata su nuovi principi di coabitazione naturale e sociale. La mostra si inserisce nel progetto Palazzo Strozi Future Art. Sei giovani artiste italiane con sei giovani curatrici, quindi c'è un vero e proprio progetto anche di esperienza comune di questo gruppo di professionisti e artisti che hanno lavorato insieme per parlarci di natura, di potere, di corpo, secondo un punto di vista femminile. Quindi la mostra che ci parla del presente, dell'oggi, visto dagli occhi di giovani donne. Altereva nasce in memoria di Ilari Mercus, ricordati, sarà in allestimento fino al 12 dicembre con ingresso gratuito. Le opere mettono in discussione il patriarcato, i ruoli di genere, offrendo nuove e possibili forme di relazione fra natura ed essere umano. Sono molto felice di aver potuto contribuire a questa mostra, che segue quella di Ilari, che ha visto la mia fondazione a nome di mia madre collaborare con Palazzo Strozi. Si inserisce in un programma quinquennale che abbiamo deciso di intraprendere quest'anno. Grazie. Grazie.